ragazzi di nuovo qua scusate se faccio troppe registrazioni corte però la mia connessione come vi ripeto non mi permette di fare più di 20 minuti 25 al massimo quindi purtroppo è così e niente chi vuole vedere bene chi non vuole vedere pazienza qui abbiamo l'acqua qui l'acqua va tolta però facciamo una cosa andiamo a prenderci il cancello di là perché tanto ci ha detto che dobbiamo tornare ecco facciamo già che tenercelo aperto questo è il cancello che dall'altra parte non riuscivamo ad aprire perfetto adesso vediamo un po' se tirando questa leva meccanismo fatto a diciamo triangolo vediamo cosa succede mamma mia a parte cos'è sta roba lì dovrebbe aver tolto l'acqua che se noi la vogliamo rimettere non si può più ok è un pochettino come Tomb Raider ma non è proprio come Tomb Raider c'è tanti meccanismi niente qui attenzione silenzio no di nuovo il Tarselvun questi sono abbastanza non dovete farli avvicinare mi ha tirato il veleno bastardo carica sto arco un bimbo minchia è stato bravo è un po' minchiella però è stato bravo vedi sei più veloce perché ti do una asciata che ti ammazzo io corri 6 oh bene allora io direi che ragazzi possiamo andare di qua quindi sono le 6 meno 20 facciamo più o meno fino alle 6 dai 6 l'ultimo quello niente guardate sempre in alto sono giocate purtroppo i primi due titoli david ha detto che sono usciti solo su playstation 2 e 3 mi sembra o 1 e 2 mi sembra o 2 e 3 non mi ricordo ragazzi uuuh guardate raggiù cosa c'è santo dio cosa sono con l'erobe molto bene dai nemici oh cavolo magari questi no no questi le bagli dobbiamo andare per forza di lì non c'è altra soluzione oh Ti seguo a ruota Chi osta Chi osta Chi osta terra Chi osta Chi osta Chi osta Chi osta Chi osta Chi osta Bastare Questi scoppiano Non c'è niente Da tirare giù Oh eh sì Le balle Guarda lì Bene Bene Altra gente Molto bene E adesso qua Attenzione Cosa c'è qua Oh eh Eh Padre Ti fai prendere dalle emozioni Tu non senti loro pensieri Io sì Ignorali E Scusate Scusate ma Scusate ma Eh Bisogna tirare la leva Oh madonna Oh madonna Niente Qua dentro Non c'è niente Ok Proviamo Dobbiamo tirarla Vediamo cosa succede Oh ma cristo Cosa c'è qua Io fa Che bestia Attenzione Mamma mia Di nuovo Un altro Qua Ma devo decarlo Là nella gamba Nella gamba Nella gamba Deve essere Di giallo Occhio Pazzo È molto lento Nella testa Nella testa Nella testa Non la prendono Quando alza il piede Via È tosto Ragazzi No No Mi ha ucciso Ragazzi Porca troia È tosto Non è facile Ucciderli Questi qua Dai Ci proviamo Ancora Una volta Dai Bisogna uccidere Questo Se non Ci fa Apri La porta Vai No No nooo è troppo forte ragazzi, questa si brucia, ha troppa potenza, io penso che se lo becchi dove lo becchi beh ciao cazzo no no ragazzi ma questo qui non si può uccidere, questo è troppo forte vabbè ragazzi finché non lo ucciderò non riprenderò la registrazione, allora con calma adesso ci salutiamo chiaramente ci salutiamo e ci vediamo appena avrò fatto secco sto stronzo, ciao ciao ciao